La giornata del rene viene proprio a puntino, nel senso che dovrebbe essere inquadrata da un aspetto puramente e principalmente di prevenzione. Questo perché? Perché noi in quella giornata faremo due valutazioni molto semplici, la pressione arteriosa e un esame dell'urine. La pressione arteriosa che si è alterata ci può già indicare una qualche problematica di tipo cardiovascolare, esame dell'urine che come si suole dire se le urine sono lo specchio del rene ci possono far sospettare e indirizzare poi successivamente a tutta una serie di valutazioni. Mi riferisco in particolare alla presenza nel sedimento urinario di globuli rossi che possono indirizzare verso una patologia di tipo ostruttivo o anche neoplastico, la presenza di proteine che in una certa quantità indirizzano verso una ipotesi di glomerulonefrite, la presenza di glucosio che può anche essere la prima manifestazione di un diabete mellito non ancora completamente evidenziato. Quindi la prevenzione è sicuramente il campo fondamentale, anche perché dobbiamo considerare che purtroppo nella nostra realtà di terapia sostitutiva, quindi di dialisi, abbiamo dei numeri nettamente importanti, esempio nella nostra struttura a retina stiamo trattando in questo momento 100 pazienti in emodialisi, ne abbiamo altri 20 in dialisi peritoneale, anche se poi abbiamo un discreto numero di pazienti trapiantati, circa 130, che vengono seguiti a livello ambulatoriale. Ma questi non sono soltanto i numeri della nostra realtà. Noi abbiamo anche due centri di assistenza limitata, a Bibbiena e a Sansepolcro, in cui ci sono altri 45 pazienti globali, per cui ai nostri 100 dobbiamo aggiungere i 45. Abbiamo anche 5 pazienti in dialisi domiciliare e, ripeto, 20 pazienti in dialisi peritoneale. Questi ultimi due aspetti, la peritoneale e la dialisi domiciliare, rientrano in quella che è una politica, una filosofia di deospedalizzare il più possibile il paziente. Daremo mano al nostro reparto, in quanto siamo tutti pazienti, anche noi, personalmente sono trapiantata, proprio per accompagnare le persone alla conoscenza di questa patologia. È una patologia purtroppo silente, per cui molte persone neppure hanno la percezione della conoscenza di questa patologia.